che cosa puoi fare se odi il tuo lavoro beh innanzitutto ringrazia per avere quel lavoro te lo dico perché se tu odi il tuo lavoro probabilmente sei un dipendente non sei un imprenditore perché un imprenditore se odiasse la sua impresa la chiuderebbe la modificherebbe ma non continuerebbe a fare le stesse cose perché proprio nella sua indole di imprenditore c'è la voglia di intraprendere delle attività e quindi quando si trova di fronte a un ostacolo l'imprenditore non si ferma a odiare l'ostacolo ma si muove per risolvere l'ostacolo ecco perché suppongo e correggimi se sbaglio suppongo che se odi una situazione in particolare in questo caso il lavoro è perché ti consideri dipendente di qualcun altro un po' come un cittadino che odia il suo governo perché non si assume la responsabilità di fare parte del governo si considera dipendente del governo e quindi dici io sono un dipendente e il governo mi deve nutrire un po' come il bambino che dice io sono il bambino mi devono dare da mangiare quelli là i grandi i potenti no io faccio il bambino quindi datemi la pappa pronta ecco quando hai un atteggiamento di dipendenza che ti porta a sentirti insoddisfatto se non ricevi la pappa nelle quantità e del sapore che tu vuoi quando ti consideri perennemente un dipendente potrebbe capitare che non ricevendo soddisfazione cominci a odiare quelli là grandi e io ti dico quelli là grandi sono quelli che ti passano la pappa che tu sia un lavoratore che tu sia un cittadino che tu sia un bebè se ti senti dipendente incapace di partecipare alla conduzione della cosa ringrazia che ci sia qualcuno che si occupa della conduzione della cosa quindi cambia atteggiamento quindi anziché dire quelli là sono cattivi comincia a dire per fortuna che mi hanno assunto anche perché se tu insulti troppo quelli là stai insultando te stesso perché quelli là ti hanno assunto ti pagano uno stipendio ti mantengono tutto sommato certo tu in cambio dai la tua prestazione chiaro beh fa parte delle regole del gioco no quindi cominciamo a dire che quelli là che ti mantengono tutto sommato una struttura per mantenerti l'hanno attivata e tu al momento ti senti dipendente dalla struttura quindi vuol dire che al momento non hai ancora creato la tua struttura ti pare quindi comincia ad avere un atteggiamento di gratitudine e questo cambia le cose perché quando provi gratitudine verso la struttura cominci a capire che la struttura è tua se sei in una famiglia dove quelli là non ti danno la pappa pronta comincia a capire che la famiglia è tua se sei in un paese dove quelli là non ti danno il governo comincia a capire che tu puoi partecipare alla vita politica del tuo paese e potresti darti una mossa con delle proposte costruttive all'interno del vivere civile e questo cambia atteggiamento smetti di considerare quelli là una cosa ostile e cominci a considerati responsabile e quando sei responsabile allora ti rimbocchi le maniche non hai più il privilegio di fare la vittima dicendo che quelli là sono cattivi perché a quel punto ci sei anche tu nel consiglio di amministrazione sei anche tu nella sala bottoni e allora anche tu sei responsabile di quello che succede il passaggio successivo è sviluppare quanto ti ho detto cioè sviluppare la gratitudine nel momento in cui ti riconosci all'interno della situazione e responsabile della situazione quando capisci che puoi fare qualche cosa allora comincia a fare qualche cosa e comincia a usare le tue energie non per lamentarti ma per creare soluzioni in buona fede senza polemica senza ironia quindi non c'è il confronto come fanno certi comici che vivono semplicemente scavando nel marcio dicendo guarda che marcio e loro se ne stanno fuori eh questi comici come sono spiritosi sono immaturi perché continuano a considerarsi bebè che vogliono la pappa pronte alzano la manina in modo buffo ecco che li chiamano comici in modo buffo per dire la pappa non è buona beh allora vai in cucina e prepara la papa eh passa da livello comico a livello adulto eh bene allora gratitudine parti da qua sei in una struttura malandata ci sta ci sta che sia malandata ci sta che tu lo riconosca e allora migliorala gratitudine perché non parti da zero dal livello delle caverne parti da un livello di civiltà che sicuramente può essere migliorato applica la tua intelligenza dimostra che sei intelligente e che non sei lì ad aspettare la papa pronta partecipa alla vita globale della struttura che si tratti di un'azienda di una famiglia di un partecipa costruttivamente metti da parte l'ironia il sarcasmo la rivalsa personale e mettiti a studiare delle soluzioni che possano creare il benessere generale capisci quali sono le parti in gioco e fai in modo che ci sia un innalzamento della qualità della vita ecco che cosa puoi fare quando non ti piace la situazione in cui ti trovi grazie a tutti